Non c'è tregua in via della giustizia a Mestre. Il titolare della carrozzeria moderna ha subito l'ennesimo atto vandalico che unito ai furti degli ultimi anni è arrivato a quota 38. Giocavano con le pietre, avevano le pietre in mano. Io gli ho detto che una volta, ragazzi state attenti, mi chiedono scusa, scusa, non facciamo niente. Ma dopo questi qua, quando hanno preso queste sostanze di droga, di cosa che si fanno, non capiscono più niente e giocano, lanciano le pietre e ne fanno di tutti i colori. Però hanno capito che stamattina non dovevano essere qua. Altre auto danneggiate che l'assicurazione non copre nemmeno più. Stiamo pagando di tasca propria, sta pagando l'azienda, di tasca dell'azienda. Abbiamo 24 dipendenti e, ripeto, in via giustizia ci sono 150 famiglie che vivono con il reddito di via giustizia. Favaretto ora è arrabbiato più che mai e dopo decine di appelli inascoltati al Zaitoni. Ho deciso, da oggi il drop-in non apre più perché i blocco io non entrano lì dentro, vanno via. Se non riesco bloccando il drop-in bloccherò via Miranese. Mi scuso già per il disagio che creerò il traffico, ma non ne posso più. Come ripeto, 150 famiglie hanno mandato militari, vogliono fissi qua, devono essere sempre in via giustizia. Ma noi chi siamo? Ma chi siamo? Degli stracci, chi siamo? Noi siamo delle persone umane, c'è gente che lavora. Abbiamo 300.000 clienti, ma io mi vergogno. Devo andare via da qua? Devo andare via? Devo chiudere tutto e mandare a casa tutti i dipendenti? Posso anche farlo? Posso permettermelo anche di farlo? Però no, penso che sia giusto. Penso che sia una vergogna per l'istituzione non riuscire a risolvere questa cosa. Ci sono caserme vuote, metteteli dentro. Oppure portateli negli ospedali, questa gente va ricoverata, perché sono tutta gente che ha problemi e va difesa e recuperata. Perché io non sono contro di loro, sono contro chi non riesce a gestirli. E lancia l'ennesimo appello alle istituzioni. Bisognerebbe che venissero a vedere cosa sta succedendo. Magari vengono che io non li vedo, non dico che non vengono. Però si devono rendere conto. Ma perché dobbiamo pagare più di 2 milioni di euro di danni? Chiederemo i danni, adesso se va avanti così, i danni li chiederò allo Stato, prima di tutto il Comune, perché la proprietà, qui c'è il Comune che gestisce. Non è possibile una cosa del genere. La strada la puniamo noi perché Veritas pulisce solo la corsia centrale, là c'è sangue dappertutto. È una vergogna.